Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo previsto per sabato 17 dicembre. Ancora nebbie sulle regioni di nord ovest, ma in definitivo probabile dissolvimento, ma ancora freddo intenso su gran parte del centro nord. Ma la novità di maggior rilievo è l'azione della perturbazione africana giunta giovedì che si sta espandendo a gran parte dell'Italia, tanto che porterà nuvole su gran parte dell'Italia, su tutto il centro sud fino all'Emilia, ma porterà anche piogge su Marche, Abruzzo, Molise, Lucania, Calabria ed isole maggiori, temporali forti sulla Sicilia e nevicate fino a quote collinari su Abruzzo, Molise e Marche. Qualche nevicata oltre 1200 metri anche sulla Lucania e sull'Alta Calabria. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Gioliaci.